Bene, buongiorno, abbiamo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, tecnica della scuola. Buongiorno a voi. Allora, sette mesi durante i quali lei è a Viale Trastevere, sette mesi molto intensi, dobbiamo dire. Mancano pochi giorni alla maturità, un messaggio da inviare ai ragazzi, ai maturandi, oltre mezzo milione di studenti e anche ai commissari. Il messaggio è quello che un po' ha ispirato questi mesi qui al ministero, cioè riportare la serenità nelle scuole. Io credo molto in questo messaggio, credo molto nel fatto che soprattutto dopo il Covid, dopo gli anni drammatici che abbiamo vissuto, dopo le tensioni e anche il disagio che i ragazzi hanno espresso a seguito della reclusione domestica prima, dell'assenza di quel percorso di umanizzazione che la scuola rappresenta. Insomma, io credo molto che riportare la serenità nelle scuole sia un messaggio molto importante. E poi, di conseguenza, è ovvio che anche l'esame di Stato va vissuto in questo modo, va vissuto non come l'ultima, come dire, la prova finale, come se fosse il giudizio divino. Ragazzi, è un colloquio, certamente ci sono i due scritti tradizionali, e poi l'orale sarà un colloquio dove dovrete dimostrare quello che avete assimilato in termini di contenuti e di metodo, però non troverete dall'altra parte degli inquisitori e i commissari sanno che dovranno cercare di cogliere quel grado anche di maturazione che i ragazzi hanno saputo raggiungere, proprio come dicevamo prima, nel quanto hanno assimilato del percorso, soprattutto dell'ultimo anno. Sarà quindi un colloquio che dovrà essere vissuto con estrema tranquillità, senza che la sua attesa privi del sonno 500.000 ragazzi italiani. Grazie.